Ciao e benvenuto sul mio canale, io sono Johnny e in questo canale ti racconto il mondo del carcere. Te lo racconto in tutte le sue sfaccettature. Te ne parlo perché ho vissuto un'esperienza in un carcere qui in Toscana, io sono di Pistoia, sono stato detenuto per 5 mesi in custodia cautelare e stando lì dentro quelle settimane mi sono reso conto che è un mondo sommerso, è un mondo pieno di tabù, di falsi miti e anche di tanto pregiudizio. Spero con questi video di dare maggior informazione su un argomento che si parla troppo poco, secondo me, quindi vedrai video in cui ti parlo male di aspetti tecnici del calcio piuttosto di quello che ho provato io in determinate situazioni. Se ti va, iscriviti al canale, commenta i miei video sempre con educazione. Ci vediamo quando vuoi te. Ciao!